Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. In direzione Roma invece coda a tratti a causa del traffico intenso tra Firenzuola e Calenzano VI Fiorentino. In A11 a causa di un incidente un chilometro di coda tra Monte Catiniterme e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo alla FIPILI dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina con code in uscita a La Strassigna in direzione Livorno, un chilometro di coda invece in direzione Firenze. Due chilometri di coda a causa di lavori in direzione Livorno anche tra Santa Croce sull'Arno e Ponte del Est. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!